www.puffi.com Questo è il vero barrientos, ma quanto sono stati difficili i due anni di infortunio? Sì, abbiamo sofferto tanto, non solo io, ma anche la gente che è sempre stato a fianco a me. Però ormai quello è passato, adesso siamo nel presente, siamo tutti contenti. Tu avevi quando eri in Argentina una squadra e ti piaciuto più delle altre? Sì, noi argentini siamo molto ligati a Maradona, Maradona ha giocato a Napoli, quindi per il fatto di Maradona noi argentini abbiamo una piccola simpatia con Napoli. Maradona per gli argentini è il dio del calcio, penso che pure per gli italiani. Mi ricordo che sempre dopo allenamento andiamo a casa suba o troviamo qualche posto per andare a mangiare o a stare sempre insieme. Quando mi chiamo, mi chiamo per scherzare solo, mai mi chiamo per parlare serio, tranquillo. Lo senti spesso? Sì, sì, sì. Chi vince tra Inter e Catania domenica? Sì, speriamo che noi, quello sarebbe bellissimo per noi, per tutta la gente, speriamo fare una grande partita e vincere. L'Inter è una squadra di campioni, un leone che adesso dorme, sicuramente si verrà e lo faranno come sempre bene. Speriamo dopo il Catania. Speriamo dopo il Catania.